ariete un brutto stop ai tuoi sogni di gloria arriverà e nonostante la delusione iniziale dovrai continuare a impegnarti perché ogni fatica verrà ripagata toro oggi esisterai solo tu e il partner e null'altro al di fuori delle mura di casa una grande intesa sotto le lenzuola però forse non basterà gemelli hai sete di giustizia oggi vorresti che tutto funzionasse come deve secondo le regole di meritocrazia cancro respira e non perdere la calma marte mette a rischio il tuo già precario autocontrollo e così tutto purtroppo sarà motivo per risvegliare il tuo lato peggiore leone mattinata negativa che cederà il passo a una serata di matura consapevolezza sveglia con il piede sbagliato e tutto sarà nero e nuvoloso vergine la tua energia e determinazione non potranno che essere notate al lavoro urano ti darà consapevolezza e vitalità bilancia marte belligerante come non mai al lavoro e a casa ti spingerà a gesti inconsueti e a reazioni eccessive tu saprai mantenere la calma e arginare i danni scorpione cerca di non perdere la concentrazione nel caos cerca di dare la priorità alle faccende più urgenti sagittario niente imprevisti oggi quello di cui hai voglia è la sicurezza della quotidianità la rassicurante monotonia delle giornate tutte uguali capricorno un divano una spiaggia un prato ovunque tu sia vorrai solo sdraiarti e riposare acquario costanza e determinazione è quel che serve insieme a un po di sport ti stai un tantino lasciando andare a tavola e la pancetta ne è la prova pesci anche se spesso la stanchezza lavorativa ti porta a trascurare il partner oggi è tempo di consapevolezza